Benvenuti nella nuova puntata di Qui Salute Magazine per Radio Nostalgia. Siamo con il professor Mario Igor Rossello, chirurgo della mano, a cui chiedo ho un dolore alla mano, cosa devo fare? Prima cosa cercare di contattare uno specialista che si occupi di mano e non persone generiche perché le patologie possono essere molto diverse, il dolore può essere dovuto a fatti infiammatori o a fatti atrosici oppure al sovraccarico funzionale. Oggi con i telefonini e strumenti di vario genere queste patologie sono aumentate enormemente. A volte si nascondono anche patologie un pochino più gravi, tipo la compressione del nervo mediano che causa la famosa sindrome del tunnel carpale, quindi una patologia evolutiva che può portare anche a danni importanti. Quindi non sono mai patologie da trascurare, quando il nostro corpo ci dà dei segnali dobbiamo ascoltarlo e chiaramente dobbiamo rivolgersi a uno specialista che sia in grado di interpretare al meglio il problema e fornire la diagnosi e la soluzione corretta. Grazie. Grazie. Grazie.